ciao gente eccoci qui con il nostro scopriamo le creazioni vi devo confessare che questo video avevo già iniziato a farlo due giorni fa solo che poi mi si era scaricato la batteria e quindi il discorso si era interrotto alla fine ho detto visto che comunque avevo poche creazioni ho detto faccio aspetto un paio di giorni in più così ne approfitto e faccio qualcos'altro almeno da avere un po più di varietà nelle reazioni da mostrarvi allora oggi in questo scopriamo le creazioni vedremo questo stampo nuovo vi mostrerò alcune creazioni che avevo tirato fuori quando avevo iniziato a fare il video precedente e poi vedremo insieme tutte tutte le altre mi sono anche accorta che ho dimenticato due creazioni quindi aspettate un attimo che le vado a prendere ok eccomi qua e quindi possiamo iniziare direi che partiamo subito dalle creazioni che avevo già tirato fuori dagli stampi che erano questa foglia che le avevo fatte sia colorate che trasparenti perché volevo vedere effettivamente come era questo stampo e a me questo stampo fa impazzire anche fatto in trasparenza così poi avevo provato che qui adesso ce ne sono altri due lo stampo coi teschi avevo fatto questi due teschi qui che avevo usato qua il pigmento bronzo ed è bellissimo secondo me è venuto stra bene con la resina nera e qui avevo usato un mix di pigmenti avevo usato un pigmento viola metallizzato e il pigmento questo qui che avevo preso su aliexpress che ha i riflessi sia viola che verdi e devo dire che è molto bello ora io come al solito ho una luce abbastanza brutta però un pochino i riflessi si vedono ed è uno stampo che mi piace parecchio ora qua devo ancora levarci questo eccesso ma va bene comunque molto molto bello poi con il mio avanzato della resina avevo fatto questa carta che è la carta del carro ovviamente quando l'ho tirata fuori dallo stampo i dettagli non erano colorati li ho colorati poi dopo con l'inca gold dorato e il risultato mi piace molto era della resina di scarto blu con cui ho fatto vi ricordate nello sperimentiamo che stavo facendo quella zampetta che mi era stata commissionata per un portachiavi e avevo provato a colorare l'interno lo stampo nei polpastrelli direttamente con col pigmento per poi farci la colata scura e coprire tutto solo che il risultato non mi non mi è piaciuto come è venuto che è questo qua in più ci sono venute qui le bollicine d'aria tutto quanto allora vabbè l'ho rifatta e adesso è qui poi andremo a vedere il risultato finale e poi ho fatto che mi servono per l'Abra Cadabra Festival questi tre ciondoli con i doni della morte e la tecnica Petri Dish e sono venuti secondo me spettacolari guardate qua ve li faccio vedere tutti e guardate che bello guardate che effetti eccoci qua dritto si mi piacciono molto bene e ora direi che possiamo andare a tirare fuori le altre creazioni ah ho dovuto rifare per chi mi segue già da un po' devo fare altre due colate di questi perché si sono aggiunte delle bomboniere quindi devo fare così all'ultimo ancora degli stampini degli stampini delle creazioni ve li faccio vedere alla veloce tutti insieme tanto li avete visti una maria di volte però se c'è qualcuno di nuovo che mi sta seguendo non li ha visti è giusto che li veda sono degli stampini a tema bebè per un battesimo e vanno e queste formine qui vanno incollate su delle boccettine di vetro su delle ampolline dove poi dentro ovviamente ci saranno i confetti e sono questi ovviamente devo poi levare gli eccessi e poi devo andarla ad incollare e sono questi qui sono un sonaglietto un passeggino un cavallino ad ondolo questa spilla da baglia con col cuoricino i piedini e la cicogna che porta al fagottino e direi che li mettiamo qua questo stampo comprende anche il bebè e l'orsetto ma secondo me hanno una faccia un po' inquietante e quindi con la cliente abbiamo deciso di non farli ok ora direi che possiamo andare avanti con gli scarti che qui ho raccolto dell'altra resina questa qui era della resina di una colata precedente in questo stampo e per recuperare la resina ho fatto due cavallucci due cavallucci marini vabbè due unicorni e un castello e sono molto carini anche qui ovviamente devo levare questo eccesso ma ci metterò poi poi a toglierlo qui mi è venuta una bollicina d'aria ma vabbè qui anche però sono scartini si possono secondo me questo si può comunque utilizzare perché la bolla d'aria è sotto e non si vede questo qui ce l'ha proprio sul ginocchio passatemi il termine insomma il castello invece è venuto molto carino bene senza bolle semplice però senza bolle è molto carino e poi c'è l'unicorno blu che è questo qui è il blu che è ancora un po' morbido che ho usato per per la zampina però è un blu molto bello l'unicorno è venuto molto bene carino sì sì devo farlo ancora seccare un po' perché è ancora un po' flessibile però è venuto bene ok quindi questo stampo lo spostiamo adesso direi che possiamo andare a vedere come sono venuti gli altri due teschi di corvo che anche questi qua sono stati fatti con della resina di scarto questa volta il colore uguale quindi li tiro fuori insieme e li guardiamo insieme eccoli qua hopla sono carini anche come scartini è venuto un bel colore cioè più che è venuto un bel colore mi piace il risultato che è venuto perché è uno stampo che secondo me viene bene con qualsiasi colore uno lo faccia non riesco a capire bene cosa sia successo qua che sono diventati neri e passatemi il termine pungenti perché sono molto molto ruvidi in questo punto ma la cosa strana è che hanno dei segni neri tipo quasi bruciatura però è una cosa molto strana questa perché negli altri due non mi è successo poi controllerò lo stampo comunque sono molto carini poi direi che possiamo andare a vedere le foglie qui ce ne sono altre due trasparenti che le tiriamo fuori insieme hopla questo qui sarebbe uno stampo per cioccolatini e sono queste qua e sono molto belle c'è qualche microbolla ma mi piacciono lo stesso sono carine sì 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 è uno stampo dal quale onestamente non mi aspettavo chissà che cosa ah ovviamente per tutte le creazioni sto usando sempre la liquid glass resin della resin chimica che ormai è ufficiale è la mia resina non si scappa e per il petri dish ho usato i pignata ora ve ne faccio vedere uno il primo che mi è capitato in mano i pignata color che sono i colori ad alcol e sono questi qua poi andiamo avanti con le foglie questi due sono sempre scarti infatti questo qui si vede palesemente perché non è neanche del tutto pieno questo ha anche uno scartino e questo qui è un bianco che a me fa impazzire mi piace un sacco eccola qua sembra quasi una foglia congelata è davvero bella sì sì a me questo bianco piace veramente un sacco infatti col bianco ci ho fatto anche questo e le corna perché per chi se lo ricorda per l'Abra Cadabra Festival voglio fare il vassoio che devo ancora metterlo in posa con sopra il cervo con le corna e la scritta inglobata ex petto patronum da usare poi come svuota tasche porta gioia poi uno lo usa un po' come come vuole poi andiamo a vedere un altro scartino e vabbè qui ho messo insieme due resine sì due colate diverse però dietro è bellissima davanti si vede solo il blu ma vabbè però la forma sempre carina ancora questa qui volendo si potrebbe anche modellare un po' perché guardate ancora come è flessibile poi andiamo a vedere le altre che le ho fatte questa mi sembra bronzo mi pare non mi ricordo devo andare a vedere no questa qui l'ho fatta col colore col pigmento in polvere il rose gold se non mi ricordo male si chiama così ed è una foglia fa molto autunno però secondo me questi stampi così delle foglie il meglio lo danno proprio con colori autunnali secondo me oppure con un verde che faccia sembrare la foglia verde naturale diciamo poi questa l'ho fatta con lo stesso pigmento con cui ho fatto questo e qua i riflessi si vedono un po' di più direi eccola qua è molto bella anche questa è parecchio parecchio carina mi piace un sacco poi questa l'ho fatta questo è un verde non mi ricordo come si chiama però comunque è una tonalità di verde sembra quasi un verde oliva diciamo però metallizzato questo qui non c'entrava niente ok neanche una bolla bellissima questa cosa qui e poi c'è questa aspettate che levo lo stampo eccola qua che qui il colore potevo spalmarlo un po' meglio onestamente però anche questo devo andare a vedere come si chiama perché non me lo ricordo forse qui addirittura avevo mischiato due pigmenti ovviamente tutte le foglie sono ho spennellato direttamente lo stampo non ho fatto la colata con con la resina ok poi andiamo a vedere andiamo a vedere questo che ci sarà da lottare per toglierlo perché ho già provato a farlo vedo già che la coda è venuta che meraviglia perché il primo che avevo fatto era venuto pieno di bolle adesso il problema di questo stampo sarà sfilare la testa allora ragazzi aspettate che sfilo la testa e ci rivediamo qua ok guardate come ho ridotto lo stampo per sfilarlo ok è veramente faticoso perché in questo punto qui tra le orecchie e il muso è un casotto sfilare lo stampo però stavolta ecco qua c'è una macchia mannaggia vabbè vedrò di coprirla stavolta è venuto neanche una bolla mi è venuta anche la coda mi sono venute le orecchie che spettacolo allora già che abbiamo tirato fuori lui io direi che ho fatto cadere una creazione tiriamo fuori le corna così ce le proviamo le corna sono queste c'è da togliere qualche cesso e vanno così quindi sarà da fissare poi con un goccino di resina o con un po' di colla perché traballa però il risultato finale è questo qua e poi uno qua ci può appendere gli orecchini gli anelli è carino no? sì sì mi piace devo solo coprire sta macchietta qua con un po' di bianco fissare le corna perché traballano un po' però mi piace molto sì sì eccoci qua così mi levo anche questo stampo gigante ok spostiamo un po' le reazioni facciamo oh facciamo così guardate che è già un bel mallopetto eh prendiamo quella che è caduta che è questa poi adesso vi faccio ridere andiamo a vedere come è venuta la zampina che qui l'ho rifatta in due collate separate quindi ho fatto la prima colata con l'azzurro l'ho fatta asciugare e poi ho fatto la colata col col blu vediamo un po' eh infatti così va molto meglio sì sì così va molto meglio bene perfetto ora devo solo poi metterci qui il gancetto per il portachiavi ed è pronta posso darla alla cliente che fortunatamente questa cliente è una mia vicina di casa quindi la consegna sarà anche molto rapida sì 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 bello bello guardate che differenza qui avevo spalmato il pigmento che va a essere anche sparso un po' ovunque qua invece l'ho fatto con due collate decisamente il risultato con le due collate è quello migliore ok adesso direi che vi faccio vedere questo così vi racconto una storia divertente voi sapete che io per l'Aura Cadabra Festival sto preparando delle lampade in resina e in ogni lampada ci metto dentro qualcosa a tema Harry Potter e il filo di luci indovinate un po' cos'è successo qua perché ovviamente aspettate che ovviamente io sono una persona molto furba molto attenta no? intanto vediamo com'è venuto eccolo qua ci sono un po' di bollicine lì però è carino oddio questo ciondolo qui che sarebbe questo dentro la bottiglia sembra enorme però mi piace comunque come vedete io mi sono dimenticata di metterci il filo di luci me ne sono accorta ieri quando ormai era già praticamente catalizzato quindi non le ho potute inserire ma mi salva che io ho una base in legno con all'interno i led quindi la incollerò sopra quella base e almeno verrà illuminata lo stesso all'interno vedete che non so se riuscite a vederlo c'è la sabbia che comunque all'interno della clessidra che scorre poi adesso ci devo mettere il tappo di sughero tra l'altro questi bollicini qui fanno anche un po' effetto tipo costellazione una roba un po' strana però mi piace comunque ci sta anche così mi piace un altro stampo conciato bene adesso poi vediamo se riesco a ridurre un po' ok mi sono riempita di residui di resina ok e ultime ma non per importanza andiamo a vedere le carte allora qui ho voluto ovviamente devo colorarci dettagli e questo è la temperanza ci ho messo lo sticker con le margherite e poi ho provato a fare dietro un effetto che non so neanche come chiamarlo perché ho usato i colori ad alcol non impignata degli altri colori ho usato questi colori qua che sono sempre colori ad alcol ma sono colori ad alcol diciamo un po' più leggeri quindi per avere un effetto petri dish più marcato tipo questo bisognerebbe usarne secondo me veramente troppo quindi io ne ho usato un quantitativo normale infatti non so se riuscite a vederlo andiamo se accendendo il flash qui un pochino si dovrebbe vedere ma non è né un effetto petri dish né un effetto cloud né un effetto nuvola non lo so è venuto è venuto un effetto comunque poi adesso devo vedere quando ci colorerò dettagli come è il risultato finale perché così si capisce poco stesso discorso per questa che questa è l'imperatrice mi c'è finita anche una goccia di resina bianca mi ci sono finiti due flakes qua ci ho voluto mettere questa farfalla solo che vabbè l'adesiva era un po' più grosso quindi l'ho dovuto mettere girato e ho fatto lo stesso lavoro che ho fatto col verde però qua non so se si vede qualcosa ma mi sa di no si vede poco sembra semplicemente che abbia lo sfondo viola comunque anche qui poi andrò a colorare i dettagli e vedremo i risultati alla fine e poi questo è uno scartino della morte la carta della morte ho messo la resina azzurra che mi era avanzata da questi e della resina trasparente che mi era avanzata dalla colata della bottiglia li ho messe insieme e boh è venuto così c'è questo effetto qua in mezzo tipo a cellette niente niente di che onestamente questo è stato proprio un modo per evitare di sprecare la resina ma non è niente di che e poi ci sono queste due che sono simili solo che una è con i flakes e una è con con le farfalline le ho messe dritte no le ho messe al contrario perfetto la cosa che mi dà fastidio è che si è raggruppato tutto al centro questa qui è la giustizia però come vedete sono tutte arrumate qua poi ho provato a fare una specie di effetto nebbiolina ma anche la resina sia una resina bianca secondo me si è concentrata un po' troppo sul centro però sono quelle qua ripeto questi qui devo vederli finiti nel senso anche con i dettagli colorati e questo è dritto? sì questa è non ci leggo questa è l'imperatrice anche questo vedete si è concentrato tutto al centro la resina bianca ha fatto proprio le macchie no non mi fanno impazzire queste qua proprio per niente e vabbè facciamo un po' di spazio ok se devo fare una classifica direi che i risultati migliori sono senza dubbio questi i primi due teschi di corvo i tre ciondoli di di Harry Potter con la tecnica Petridish e le foglie sia colorate che trasparenti eccole qua vabbè lo scarpino non conta e anche la carta questa qui perché queste devo vederle colorate ora non so se poi magari vi metto a fondo video il risultato finale di come sono venuti colorati vediamo un po' bene ragazzi questo era il nostro scopriamo le reazioni di oggi io vi ringrazio come sempre di seguirmi e sostenermi continuate a farlo mi raccomando se questo video vi è piaciuto mettete un bel like qui sotto lasciate tutti i commenti che volete iscrivetevi al canale se ancora non lo siete attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un video così rimanete sempre aggiornati vi lascio qui sotto in info box anche il link al mio shop online e il link dell'area schimica dove prendo la resina così se siete interessati potete andare a vedere io adesso vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao allora ragazzi questo è il risultato dopo aver colorato i dettagli alcune sono devo dire che sono migliorate tipo questa già mi piace un po' di più questa anche si vede un po' si vedono un po' poco le margherite però il contrasto verde e questo oro color champagne mi piace parecchio questa è diventata molto carina questa già mi piace anche questa qui secondo me ha guadagnato dei punti questa non è male comunque sono degli abbinamenti che secondo me stanno bene scusate le manizzotte ma ovviamente mi sono sporcata tutta colorando i dettagli e questa è la carta della morte che ho voluto provare a farla con il nero acrilico questo qua e comunque anche questa così non mi fa impazzire sono sincera alcune hanno recuperato molto questa no però diciamo che queste questa che è quella che avevo fatto in precedenza queste mi piacciono parecchio quindi queste hanno recuperato tutte e questa secondo me è la più bella è la più bella è la più bella